Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata del Vangelo della Domenica. Siamo ancora in tempi di coronavirus, quindi ancora con l'Astrag io resto a casa. Ci stiamo organizzando per registrare questa puntata senza il nostro operatore, quindi speriamo di riuscire a ottenere un buon risultato lo stesso. Siamo ospiti del seminario Vescovile con Don Liva Salvadori e commenteremo con lui il Vangelo del Buon Pastore, come dice questa quarta domenica, la domenica appunto del Buon Pastore. Ora ascolteremo il Vangelo di Giovanni e poi il commento di Don Liva. Dal Vangelo secondo Giovanni Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo In verità, in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Don Ivan, al tempo di Gesù i pastori erano presenti ovunque in Palestina. E li si incontrava nelle campagne, nelle città, nelle pianure, sui monti. La figura del pastore era appunto nota e si conoscevano i luoghi nei quali di giorno e di notte stava con le pecore che fornivano il latte, la carne, il formaggio. Nella Bibbia la figura del pastore è molto presente, non solo come protagonista della narrazione, ma anche come parabola e tipologia. Sicché Dio, il Signore, è chiamato e riconosciuto come pastore di Israele. Il suo popolo è detto suoi gregge, pecore che sono la sua proprietà. Le diverse situazioni in cui possono venire a trovarsi, il pastore e gregge, servono pertanto a descrivere le concrete condizioni storiche, quale lettura dei rapporti tra Dio e il suo popolo. Sì, il Vangelo di questa domenica in effetti ci presenta una delle immagini più belle a cui la scrittura ha fatto riferimento per parlare di Dio e dell'immagine del pastore, del buon pastore, di quello che Giovanni chiama letteralmente il pastore bello delle pecore. Ora, nell'Antico Testamento la metafora del pastore era utilizzata per indicare il rapporto tra Dio e il suo popolo. Dio era assimilato a un pastore che si prende cura del gregge. In Isaia, ad esempio, il profeta diceva come un pastore Dio fa pascolare il gregge, con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul seno, conduce pian piano le pecore madri. Insomma, un pastore pieno di premure. Naturalmente, per essere pastore di Israele, Dio si era servito della figura di mediatori umani, quindi di servitori, di aiuti che si sarebbero dovuti occupare del gregge. E tuttavia la storia di Israele dimostra che non sempre i pastori sono all'altezza del compito. Talvolta, invece di preoccuparsi del gregge, si preoccupano piuttosto dei loro interessi. E questo conferisce alla storia di Israele un aspetto naturalmente drammatico. È sempre un'esperienza drammatica, anche nella storia della Chiesa, quando i pastori, invece di prendersi cura del gregge, si preoccupano piuttosto dei loro interessi. E questo accade generalmente quando i pastori perdono il contatto interiore con Dio e con il popolo. E tuttavia la cosa interessante da registrare nella storia di Israele è che già all'interno dell'Antico Testamento Dio promette un tempo nel quale egli stesso, come pastore, si sarebbe occupato del suo gregge. E dunque a questo punto che interviene Gesù. Sì, esattamente, proprio a questo punto che interviene Gesù e fa la sua comparsa sulla scena della storia biblica come il vero pastore che si prende cura del gregge. È il pastore che si pone a servizio della vita, tanto che nel Vangelo egli dice chiaramente che è venuto per dare la vita. Sono piuttosto i briganti, sono i nemici di Gesù che non si preoccupano del gregge e si preoccupano piuttosto invece dei loro interessi. Chi non entra nel recinto delle pecole della porta ma risale da un'altra parte è un ladro e un brigante. Le solenni e direi anche dure parole di Gesù mettono in rilievo un'opposizione. Vi sono quelli che entrano nel recinto del gregge non attraverso la porta che è sorvegliata ma scavalcando il recinto. Questi sono ladri e briganti. Le pecole non appartengono a loro ma essi vogliono impossessarsene. Sono ladri perché rubano e sono briganti che possono entrare nel recinto solamente con l'inganno. Sono in realtà i lupi, falsi pastori che non si curano dei bisogni e le pecore ma pensano solamente a se stessi. Questa pagina del Vangelo apre una questione drammatica per ciascun credente. E la domanda vera è a quale pastori dobbiamo dare credito. In effetti dobbiamo riconoscere che molte volte l'uomo invece di ascoltare la voce del vero pastore che è Gesù Cristo ha prestato piuttosto fede alla voce di falsi pastori. E così è accaduto che ha invertito il rapporto tra la vita e la morte. Ha prestato fede ai falsi pastori della gioia che in realtà rubano, uccidono, disperdono, distruggono e ha iniziato a sospettare che Gesù non sia il servitore della vita e della gioia ma piuttosto della morte e della schiavitù. E che la sua voce che oggi risuona all'interno della Chiesa e nella parola annunciata dalla Chiesa non sia fonte di gioia ma piuttosto causa di oppressione. E così è accaduto che l'uomo piano piano ha escluso sempre più Dio dalla sua vita coltivando la falsa illusione che senza di lui, senza il rapporto con la verità le cose sarebbero andate meglio. Ma alla fine il risultato che tutti dobbiamo registrare è che se nella vita manca una bussola che indica la direzione se manca la verità che indichi la strada l'uomo alla fine smarrisce anche se stesso. Questa pagina letta nel clima spirituale della Pasqua ci ricorda che c'è una porta che introduce alla vita e alla vera gioia e questa porta è evidentemente Gesù Cristo. Questa porta, direbbero i padri della Chiesa è costruita sui legni della croce Gesù stesso, crocifisso, risorto è la vera porta delle pecore colui che attraverso la sua morte conduce nella vera vita la vita piena. Don Ivano, il Vangelo riferisce soprattutto di due azioni che il pastore compie in favore delle pecore egli chiama le pecore e secondariamente cammina innanzi a loro che significato hanno queste due azioni fondamentali? Indubbiamente sono soprattutto queste due le azioni principali che il Vangelo attribuisce al pastore il pastore chiama le pecore una ad una e poi cammina davanti a loro beh, anzitutto viene detto che il pastore chiama le pecore le chiama per nome le conosce in realtà anche i profeti penso soprattutto ad Isaia aveva ricordato che Dio conosce personalmente il suo popolo il Signore ci conosce gli apparteniamo conosce il nostro nome questo vuol dire che siamo preziosi ai Suoi occhi ciascuno di noi ha un valore infinito davanti a Lui e in effetti noi sappiamo che chiamare qualcuno per nome denota certamente attenzione, cura talvolta anche preoccupazione questa è la prima azione che compie il pastore e tuttavia il pastore non si limita soltanto a chiamare le pecore, a conoscerle una a una ma cammina davanti anche alle pecore come colui che guida la strada che indica la direzione e se in questo tempo pasquale torniamo con la memoria alla croce di Cristo lì ci viene detto che il pastore realmente ci ha preceduti ha camminato davanti a noi non si è limitato a indicarci la strada da lontano dicendo percorretela ma la condivisa la percorsa prima di noi ha condiviso le nostre paure le nostre domande come le numerose domande che si sollevano in questo tempo e ci ha indicato una porta che conduce alla vita e alla speranza sì, le parole di Gesù potremmo dire hanno trovato nella croce il loro adempimento definitivo il Signore ci ha chiamati per nome e ha percorso per primo questa strada che conduce alla vita Don Ivan, quando siamo stati a registrare le due puntate precedenti a febbraio e a marzo ho un po' percorso la storia del seminario della diocese di Como nei secoli ecco, com'è strutturato il seminario oggi? attualmente la prima cosa da dire è che per fortuna il seminario della nostra diocesi non è vuoto in questi ultimi anni abbiamo assistito con la meraviglia di tutti a un progressivo crescere del numero delle vocazioni sacerdotali almeno nella nostra diocesi e attualmente la comunità si compone di 25 seminaristi distribuiti su sei anni di formazione e di nove preti che li accompagnano da vicino siamo appunto nella domenica del buon pastore cosa fa il seminario per formare un pastore? questo è molto importante certo, non è semplice dire in poche parole che cosa fa il seminario per formare un prete ma potremmo dire sinteticamente che sono quattro i punti fondamentali sui quali si insiste e quelli che tradizionalmente vengono chiamati i pilastri fondamentali della formazione questi sono la preghiera anzitutto poi lo studio la formazione umana e infine la formazione pastorale provo a riprenderli e a presentarli brevemente il primo punto riguarda naturalmente la preghiera e in generale la vita spirituale il tempo del seminario è un tempo prezioso nel quale si prendono temporaneamente le distanze dalla vita quotidiana per aprirsi ad orizzonti più ampi e così l'ascolto della parola la preghiera il colloquio interiore con lui diventano elementi fondamentali per la formazione un prete deve imparare a prendere tutte le decisioni importanti della vita anzitutto in un clima di preghiera e di orazione non possiamo prendere decisioni autonome mettendo poi Dio di fronte al fatto compiuto e naturalmente la preghiera richiede una grande disciplina richiede pazienza richiede un cammino progressivo chi vuol diventare prete anzitutto deve essere un uomo di preghiera e poi la seconda dimensione fondamentale della formazione è costituita dallo studio Santo Maso d'Aquino parlava nella summa teologica di una virtù importante che è quella della studiositas studiare non significa fuggire dalla realtà per entrare in un mondo artefatto dell'accademia no studiare significa imparare a conoscere globalmente la fede della chiesa perché un prete dovrà poi presentare non le proprie idee ma la fede globale della chiesa è un servizio umile e alto quello della verità che richiede certamente solitudine ma mai isolamento e richiede una grande generosità non dimentichiamo che l'annuncio della verità è la prima forma fondamentale di carità e poi un terzo punto un terzo pilastro riguarda la formazione umana un prete deve essere un uomo di preghiera deve conoscere la verità globale della fede ma deve poi avere anche un'umanità armoniosa ed equilibrata capace di entrare in dialogo con la gente l'umanità deve sempre costituire un ponte e mai un ostacolo con le persone che il prete incontra per questo è importante che il prete sia una persona anche affettivamente equilibrata e matura e da cosa si capisce la maturità di una persona beh generalmente dico sempre ai semiaristi che quando una persona è in grado di anteporre il tu dell'altro al proprio io è generalmente una persona sufficientemente matura e infine il quarto e ultimo pilastro della formazione in un seminario riguarda appunto la pastorale non dimentichiamo che preti non si diventa per se stessi per la propria gratificazione per guadagnare prestigio sociale ma si diventa preti per entrare al servizio del popolo di Dio ed è per questo è estremamente importante che il seminario abbia dei rapporti costanti con le parrocchie e le realtà ecclesiali della nostra diocesi ed è ancora per questa ragione che tre giorni alla settimana i nostri semiaristi vanno a fare esperienze pastorali in diverse parrocchie del nostro territorio siamo giunti al termine di questa puntata del Vangelo della Domenica ricordo che domenica 3 maggio potrete seguire in diretta su questa rete quindi su espansione di tv la Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo Oscar alle ore 10 quindi canale 19 digitale terrestre oppure in streaming sul canale youtube settimanale della diocesi per rimanere informati soprattutto in questo momento e uniti spiritualmente alla nostra chiesa locale ricordi il nostro sito internet www.catedraledicomo.it la pagina facebook o quella instagram oppure il canale youtube della cattedrale dove sono caricate tutte le funzioni del Vescovo tutte queste puntate e ci potrete seguire e rivederle quindi con noi l'appuntamento è a sabato domenica prossima vi auguro una buona domenica a la a 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 Grazie a tutti.